Un girone complicato lo definisce così Christian Riggio, centrale difensivo del Taranto, il raggruppamento C in cui a partire dal prossimo 3 settembre militeranno il rosso-blu. Lo fa ai microfoni di Antenna Sud presenti a Caccia, sede del ritiro precampionato. Per quanto riguarda il girone, sì, non c'è il Catanzaro schiaccia sassi, però comunque è un girone sempre difficile. Si sono aggiunti il Catania, si è aggiunto il Benevento e come sappiamo tutti il girone C è sempre quello più difficile dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del calore dei tifosi, dal punto di vista degli stadi perché comunque sono molto, diciamo, pesanti. Quindi da quel punto di vista il girone C è sempre molto difficile da affrontare. Settimane intense di lavoro, quelle trascorse, ma è ancora tutto in divenire. Abbiamo lavorato molto e stiamo ancora lavorando, quindi diciamo la prima amichevole comunque più impegnativa. È stata, diciamo, affrontata bene, nonostante i carichi di lavoro elevati. È normale che siamo tanti nuovi, quindi dobbiamo ancora entrare nei meccanismi del MIS. Infine, la voglia di fare della difesa il punto di forza principale del Taranto. Il MIS comunque ci mette in difficoltà, ma giustamente perché lui ci vuole inculcare la sua mentalità che subire gol è come se fosse una sconfitta e noi dobbiamo avere questa mentalità.